La città degli abbandoni per il teatro comunale e porti turistici e periferie. Si raccusa ormai diventata la città degli abbandoni e delle incompiute. Parco Tiche, Pillerina, zona industriale, porti turistici, borgate e periferie, teatro comunale, antico mercato, ipogei, verde pubblico, traffico, trasporto pubblico, piano regolatore generale del porto mai predisposto, piano particolarizzato di Ortigia scaduto, parcheggi e navette, quelle vere per Ortigia sognate, rete di smaltimento delle acque meteoriche altrettanto, piano di investimenti per il nuovo acquedotto civico e gestione del servizio idrico integrato altrettanto, raccolta rifiuti a singhiozzo, mal concepita e peggio attuata. Emblema degli emblemi è il teatro comunale, 60 anni di chiusura per consolidamento e restauri, completati, consolidamento e restauri e larghi apertura? Certo che no, silenziosamente, Aumauma è stato privatizzato di fatto, messo nelle mani dei privati, senza una gara, senza una selezione, senza un capitolato, senza un programma di attività, nulla, soltanto un compenso silenzioso per una cooperativa di amici. E ora, di tanto in tanto, il comunale viene aperto per qualche iniziativa di amici degli amici, dei disamministratori comunali, ma non per fare teatro, no, soltanto per cerimonie e varie attività che con il teatro non ci azzeccano proprio, come direbbe Antonio Di Pietro, oltre alle solite visite guidate, a pagamento, ma chi intasca questi incassi? E soprattutto quando si tornerà a fare teatro nell'antico teatro comunale? Se mai ci si tornerà? Ma zoomiamo su un altro punto ancora più emblematico, porto turistico, cominciando dal più emblematico dei casi, il porto turistico Marina di Archimede, mentre rimane in stand-by il progetto del Porto Spero, poco apponente del Molo Sant'Antonio e del previsto Marina di Archimede. Originalmente il progetto fu lanciato da un imprenditore di Palazzolo, Paolo Gallo, prematuramente scomparso in maniera drammatica, suicidio. Gallo si era prodigato non poco e anche onerosamente per portare a compimento le non indifferenti procedure autorizzative per la realizzazione del porto turistico. Fu una procedura lunga che a partire dai primi anni 2000 impegnò Comune e Regione fino al 2006-2007, quando a concessione demaniale avvenuta la società antica via Acquamarcia dell'ingegnere Francesco Bellavista Caltagirone rilevò il ramo d'azienda e diede inizio ai lavori. Era il 2007 quando fu celebrata la cerimonia della posa della prima pietra al Molo Sant'Antonio. Vi parteciparono l'allora Presidente della Regione Cuffaro, tutti i bufardici sindaco, Bruno Marziano, Presidente della provincia, oltre a tutte le autorità civili, militari, politiche e religiose regionali e nazionali. Erano previsti 430 posti barche e tutti i servizi per la nautica da diporto. Per questo la società avrebbe acquistato e ristrutturato alcune catapecchie dell'immediato retroterra e già erano saliti i prezzi. In pochi mesi dall'inizio dei lavori ci furono oltre un migliaio di richieste di informazioni. Il primo anno si concluso con un numero di manifestazioni di interesse addirittura superiore alla disponibilità, ma cominciarono presto gli ostacoli. I primi rallentamenti furono causati dalla sovrapposizione progettuale tra l'ampliamento della banchina del Molo Sant'Antonio, la cui stazione appaltante era il comune, e la concessione del Marina d'Archimede. L'ampliamento del Molo fu complicato dalla vicenda dei cassoni in cemento armato. Nel 2011 la situazione precipitò fino alla chiusura del cantiere, con i lavori già a buon punto di esecuzione, e il Marina d'Archimede è rimasto e rimane in un lungo stand-by. Nel 2011, infatti, Lombardo, presidente della regione, campo direttore generale dei beni culturali, e Ciuscina, sovrintendente, fu avviato un'iniziativa di revisione dei pareri già espressi, particolarmente per la costruzione degli edifici, tutto altro che invasivi, pur autorizzati e in concessione a servizio del porto. La società controdedusse contestando la procedura, ma fu costretta prudenzialmente a sospendere i lavori a terra. Quelli a mare erano già stati sospesi per l'impossibilità di procedere, causata dalla mancata restituzione del Molo Sant'Antonio, sul quale il comune ha lavorato fino a pochi mesi or sono. Oltre 1.200 pali sommersi, posati fino a 80 metri di profondità, per la costruzione del nuovo molo, riempimento a terra e vasca di colmata a norma SIN, due delle quali completate e riempite con i materiali di risultato dello scavo dei pali. Una banchina e la canteristica completate, assieme alla parte da consegnare al comune, per gli attracchi dei pescherecci, secondo l'accordo di programma pubblico e privato. Tutto è inutile e sprecato, ora c'è una palude. Intanto dal 2012 da parte del Tribunale di Roma è stata avviata la procedura fallimentare e il sito continua a perdere valore.